Salve ragazzi e bentornati su Pokémon Rubino Omega Xtreme Randomizer Nazlock e benvenuti in questo secondo episodio della serie. Allora, ci troviamo qui a Solarosa. In questo episodio cercheremo di uscire da questa cittadina, da questa piccola cittadina, per andare a catturare dei nuovi Pokémon, arrivare a Petalipoli e, insomma, spingerci un pochino più in là rispetto al normale, ecco. Nella parte precedente, che appunto è stato il primo episodio, abbiamo scelto lo starter che, come di consueto, si fa in ogni avventura. E niente, cioè praticamente abbiamo scelto lo starter, in questo caso Kurosawa, che è appunto il nostro Mudkip, e poi tra Albanova, appunto, e Solarosa, tra il percorso che c'è tra queste due città, abbiamo incontrato questo Joy, l'ho rinominata Joy. E quindi, niente, ci sta veramente tanto, un Censi, così, dal nulla, sbucato a random, a idrovampata, così, senza senso. E quindi nulla. Ragazzi, vi ricordo, come al solito, di sostenere tantissimissimissimo questa serie con tanti bei pollicioni in su, quindi fatelo tutti. Cerchiamo di raggiungere almeno i 200 mi piace per questo secondo episodio, e commentate qui sotto rispondendo alla domanda del giorno che trovate esattamente lì, lì. Quindi rispondete tutti qui sotto con un commento. Allora, direi che possiamo partire immediatamente. Nella parte precedente, ovvero la prima, non abbiamo fatto però la cattura qui del percorso 103, cosa che faremo adesso, tipo subitissimo, perché sono curioso di vedere che Pokémon si trovano. Ok, vai. Eeeh, ok. Guarda, vediamo un pochino, vediamo un pochino, vediamo un pochino. Uuuuh, perché un unknown? Perché un unknown? Allora, spiegatemi il senso. Perché devo trovare così dei Pokémon senza senso, veramente, tanto senza senso, perché... Cioè, veramente. Veramente, veramente. Cioè, adesso senza farlo nemmeno apposta l'ho pure battuto. Però vabbè, comunque è stata sanguisù che era super efficace, KO diretto, vabbè. Va bene, va bene. Tanto non l'avrei tenuto comunque in team, quindi non pensate. Va bene. Eeeh, nulla. Non resterà altro che andare da questa parte a sinistra, dove entreremo al percorso 102. Qui possiamo fare una nuova cattura, eh, tra l'altro. Ah, e tra l'altro c'è anche il... come si chiama? Il... il... tipo il sensore dei Pokémon nelle vicinanze. Perché tipo mi spunta Wingull, così senza senso? Non capisco. Va bene, eeeh, vabbè, io devo battere questi allenatori qua. Quindi, ok, abbiamo il primo bullo, il primo bullo. Sai, hai dei Pokémon, sei ufficialmente... Se hai dei Pokémon, sei ufficialmente un allenatore di Pokémon. Non puoi più rifiutare la mia sfida. Ma cosa? Perché? Tu, bullo, Vuoi proprio sfidare me, persona normalissima che sta andando via? Matteo Bullo, va bene, vediamo, vediamo. Anfaros. Wow. Bene. Bene, benissimo. Bene, bene. Nella parte precedente di Anzi, in questa Anfaros. Allora, d'accordo, ragazzi, che facciamo? Facciamo schiacciatuf... Tutto, 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 futuffo, non lo so, vabbè. Che non è molto efficace. Pensavo togliesse di più, dannazione. Ok, cos'è che era? Meteor Pugno. Vabbè, dai, non mi leva nemmeno poi così tanto. Facciamo un Vento di Fata. Quanto togliamo con un Vento di Fata? Io veramente non lo so. Non conosco alcune mosse, quindi... Mi è un attimo difficile. Aia. No. Non tanto. E... Proviamo a chiuderla di nuovo con schiacciatufo. Tuffo. Dovrò imparare a dire questa mossa prima o poi, no? Ok. Giù Ampharos abbiamo sconfitto il primo bullo di questa catena di allenatori che troveremo qui, in questo percorso 102. E Kurosawa sarà a livello 11. Bene, bene, bene. Adesso vorrei allenare un pochino Censi, ma è un po' difficilotto come... Come piano da attuare, ecco, perché non c'è poi tutta questa occasione di allenare per bene i Pokémon. Almeno per ora. Quindi magari lo farò un pochino in off camera. Ci proverò. Ad ogni modo. E niente, ok, abbiamo questo Pia Mosche da battere. Poi non so se ce ne saranno di altri, ma credo di sì. Penso ci sia un altro bullo più avanti e poi basta. Ok, Rick Pia Mosche con... 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 Markrow. Ok. Markrow ci sta. Ci sta. Va bene, allora, quindi... Facciamo così. Io ti mando K.O. Allora, facciamo Pistola Acqua, Pistola Acqua così. Molto, molto free. E... K.O. diretto. Madonna, Mad Keep. Cosa sei? Grande Kuro. Kuro. Questo progresso che lo chiamo Kuro. Kurosawa. Grande, grande, grande. Allora, ragazzi. Ci siamo. Abbiamo già battuto due di questi allenatori qui al percorso 102. Io direi che è arrivato il momento di fare questa cattura. Vediamo un pochino che Pokémon salta fuori. Oddio, oddio, oddio. Oddio! Ma salti fuori così! Così! Dal nulla! Ragazzi, abbiamo incontrato il nostro primo leggendario. Ad inizio avventura. Non a caso è stato il primo Pokémon mega evoluto che aveva Vera. E l'abbiamo trovato noi al percorso 102. Ma che... Perché? Cioè, adesso però il problema è... Si pone davanti al fatto che devo catturarlo. Ma come lo catturi un Pokémon così? Soprattutto leggendario con delle Pokéball. È impossibile! Davvero! Non puoi! Non puoi! Cioè, adesso... Tipo... Esplode subito, guarda! Cioè, è impossibile! Lo dico... Eh, lo dico che è impossibile! Cioè, io non posso nemmeno attaccarlo adesso perché se no è un casino. Lo mando KKO proprio. E... Boh, sta a livello 3. Ma che devo fare? Proviamo Sanguisuga, ma... Cioè... Penso sia inutile. Aspettate un attimo, ma... Se facessi una cosa... Proviamo un vento di fata. Non so quanto potrei togliere. Vediamo un po'. Ah, dai! Dai, dai! Assorbimento. Ragazzi, giuro che se riesco a catturare di Anzi... Sì, urlo, non lo so, faccio qualcosa. I salti mortali, tipo... Vabbè. Aspetto un attimo. Rifacciamo di nuovo vento di fata che mi piace... No, attacca lì del maledetto di Anzi del cavolo! Vabbè, provo una Pokéball, ma... Penso sia proprio impossibile. No, veramente. E... Sarebbe veramente una cosa assurda catturare un di Anzi così all'improvviso. Cioè, vi immaginate? Io che lo catturo con una Pokéball così senza senso. Sta continuando a fare assorbimento, quindi mi sta... Mi stanno girando le palle. Maledetto di Anzi. Perché io non posso attaccare, vero? Maledetto. C'è ancora attacca lì da su... Su vento di fata. Va bene, proviamoci, dai! Proviamoci. Non è mai detta l'ultima parola. Potrebbe succedere chissà cosa. Ha fatto un... Un tocco preciso. Uno. Uno. Mi accontento! È già qualcosa! Dai! Ce la vuoi fare? Su! Vi immaginate io che catturo Stodianzi? No, veramente, raga? No! Sarebbe tipo una cosa assurda. Ah! Atomico! Ok! Ma è quasi impossibile, è quasi impossibile. No, non ce la possiamo fare. Sì, però basta usare assorbipugno e assorbicoso. Assorbimento. Ciao, assorbipugno. Dai! Pokéball ancora? Beh, sono poche le speranze. Infatti, niente, c'è poco da fare. C'è poco da fare. Ok, attacca lì da penso sia finita, dai. No, ma ancora! Ma io se gli faccio schiacciatutto, che succede? Schiacciatuffo, scusate. Spam. Oh! Ok! 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 Proviamo sta Pokéball, dai! È arrivato ai minimi punti vita, ce la possiamo fare, dai! Dai! Uno. Due. Tre. No! No! Non è possibile, cazzo, non è possibile! No, raga, non è possibile! Non è possibile niente! No! Abbiamo catturato un Dianzi! C'è, io, io non ho parole, ragazzi. Kurosawa sarà a livello 12! Questo secondo episodio non poteva partire, non poteva... Cioè... Mamma mia! Ragazzi! No, incredibile, incredibile. E vorrebbe apprendere luce siluro, ma... Ma... Ma te sei un mostro! Te sei un mostro! Ragazzi, mi raccomando, scassate questo video di mi piace perché se lo merita bomba! Veramente troppo, troppo! Cioè, una roba atomica, veramente! Oddio! Non me l'aspettavo! Assolutissimamente! Cioè, abbiamo catturato un Dianzi al secondo episodio! No, è impensabile! Allora, io darei un soprannome a Dianzi, quindi adesso vediamo un pochino, ci proviamo a dare questo soprannome a Dianzi. Allora, ragazzi, ho trovato il nickname adatto ad un Dianzi. Lo chiamerò Crystal, perché diciamo... Cioè, Crystal... C'è anche un nome! Cioè, è proprio un nome Crystal, quindi ci sta... Cri... Crystal, così, no? Ok. Crystal! Fantastico, ok. Ragazzi! Abbiamo un nuovo Pokémon in team! Che figata! Veramente! Allora, io darei un'occhiata immediata a questo Dianzi, perché... È una cosa assurda! Cioè, veramente, non mi aspettavo di catturare un Dianzi al secondo episodio! Abbiamo... Assorbimento attaccalite! Due sole mosse! Livello 3! Con corpo chiaro! Le statistiche del Pokémon non possono essere ridotte! Cioè, vabbè! Poi voi me lo mettete così, ma... 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 Di natura docile! Ragazzi, assurdo! Veramente assurdo! E nulla! Abbiamo... Abbiamo già un Pokémon veramente overpowered! Cioè, ci sta! Ci sta a manetta! Veramente! Noi lo accettiamo! Di certo non... Non ci tiriamo indietro! Vi ricordo, tra l'altro, che comunque... Eh... I leggendari... Ovviamente non troppo uber... Sono sempre ammessi nelle randomizer! Sono... Non sono ammessi nelle Nazlock! È diverso! Quindi questa qui è Extreme Randomizer Nazlock! Finché è Extreme si può fare! Cioè, finché è Randomizer, ecco, si può fare! Perché trovi tutto random, quindi sì! Allora! Abbiamo Allen Bullo con... War Madam! Ok! Ragazzi, penso sia all'ultimo questo qui! E poi arriviamo a Petalipoli, eh! Ok! Veramente, veramente una figata, ragazzi! Ma... Cioè, assurdo! Questo episodio è stato atomico oggi! Veramente tanto, tanto, tanto! E nulla! Chissà ancora cosa potrebbe succedere durante questo episodio! Noi proviamo a vedere perché, tra l'altro, c'è anche un percorso più in là che occupa tutta quanta la parte del Bosco Smeraldo! Quindi vorrei provare a vedere un pochino se c'è qualcosina da quella parte là! Anche perché dobbiamo fare più catture possibili, cioè... Di Pokémon, ovviamente, buoni e sostanziosi che potrebbero servirci all'interno di un team Celebichao! Ok! Quindi... Ci proveremo, ci proveremo! Ehm... Che mossa uso contro un Celebio? Eletro, acqua, folletto, lotta! Tipo, il male, niente! Vento di fata, ci provo! Ok! Oh! Toglie, togllie, togllie! Ok! Punizione! Guardalo lì, guardalo lì, quanta fierezza! Ma io non mi ricordo Lucio Siluro com'è, aspetta un attimo! E non mi ricordo tantomeno di chi era sta most... No, aspetta! Era di Zekrom? Oddio, non vorrei sbagliare, ragazzi! Correggetemi se sbaglio qui sotto nei commenti! Credo sia di Zekrom, Lucio Siluro! Qualcosa del genere! Allora! Ce l'abbiamo fatta anche a battere questo bullo! Kurosawa sarà livello 13! Ragazzi, non preoccupatevi! Per ogni let's play, ogni volta mi dite... Eh, ma non allenare sempre lo starter! Cioè, è questione di principio per adesso! Devo tirare avanti con un Pokémon in questo momento! Io ho una tecnica tutta mia per allenare i Pokémon, non lo so, sono strano! Però, in off-camera, cercheremo di allenare un pochino questo Chansey e anche ovviamente questo Diansey, perché ci potrebbero veramente tanto servire, quindi... Quindi nulla! Ok, mi ha beccato lei? No, ok, non era l'ultimo, non era l'ultimo! Allora credo sia lei l'ultima, dai! Ok, ho una Pupa! Simo, ho una Pupa! Con un solo Pokémon che è Poliwhirl! Ok! Ciao Poliwhirl! Ok, abbiamo Kurosawa! Ho la mossa di tipo elettro, quindi adesso la uso immediatamente, così me la tolgo dalle scatole! Luce Siluro! Madonna, c'è un Mudkip che usa luce Siluro! Veramente, veramente assurdo! E anche fantastico al tempo stesso! Bene, ciao Poliwhirl! È stato un piacere! Adesso, stiamo arrivando finalmente a Petalipoli, la città dove nostro padre dovrebbe essere stato intervistato, ma che noi non vedremo mai nella vita! No, scherzo! Allora, qui c'è Vera! Hey! Ciao, Vera! Dark, come va? Hai imparato a usare la tecnica per camminare senza far rumore? Anche se comunque non mi è servita a niente, però va bene, quelli sono dettagli! Ok, adesso non lo so se ci farà qualche dimostrazione per catturare dei Pokémon, ma io ricordo di sì! Oh, guarda Dark, guarda! Mi pare di sì! Ok, questi qua sono, vabbè, i Beautifly che tipo sbolazzano nel nulla! Ciao Beautifly, siete belli? Siete belli! Ok, fine! Quelli erano dei Beautifly, vero? Dovrò controllare sul Navidex! Wow! Siamo già arrivati al percorso 102! È proprio vero che il tempo vola quando ci si diverte! Ok, vabbè! Quindi da quella parte c'è Petalipoli, adesso noi ci arriviamo tipo subito! E basta! Noi ci siamo fatti la cattura qui al percorso 102 che è stata a dir poco fantastica, quindi wow! Episodio sostanziosissimo, proprio pieno di roba, già solo con questo Dianzi, vero! Quindi mi ha rallegrato la giornata questo Dianzi, fantastico! Ok, quindi ragazzuoli, abbiamo rimesso in sesto il nostro team, adesso cosa faremo? Da questa parte troveremo nostro padre Norman insieme ad un bimbo, ciao bimbo! Non male, è stata una lotta davvero avvincente! Sì! Torna a sfidarmi quando vuoi, non vedo l'ora di lottare di nuovo! Ah, di lottare di nuovo con te e con la tua squadra per vedere i vostri progressi! Certo, ce l'eneremo... Ce l'eneremo... Non riesco a leggere oggi ragazzi, sono molto molto dislessico! Bene, non è uguale a tutti quanti gli altri giorni, bene! Sei proprio tu Dark? Allora, com'è andata con il trasloco, tutto bene? Senti, non stiamo qui fuori, entriamo in palestra a fare quattro chiacchiere, vieni Dark! Ok, entriamo in palestra, quindi adesso ci sarà Lino, cercheremo comunque di fargli fare una cattura, vabbè, classica roba! Quindi schippiamo un paio di discorsi, tanto per non perdere tempo, anche perché lo so che nelle Nazlock non vi importa leggere tanti discorsi in generale! Oddio, quanto è bella questa host ragazzi! Ok, se non sbaglio è la host di Lino proprio, non vorrei sbagliare! Ok, Lino riceve Zigzagoon, è molto eccitato, e adesso dovremmo dargli una mano a catturare un Pokémon tipo con le Pokébole che gli ha affidato appunto Norman! E allora andiamo a vedere un pochino quali Pokémon troverà Lino! Sì, yuppie! Wow! Ok! Ok, quindi vediamo un attimo, vai, cercati sto Pokémon, uh l'ha trovato, uh, sì che figo! E Lino avrà il classico Ralts perché sei uno sfigato di merda e non è random un cavolo per te! Ok, è tutto random per me ovviamente, quindi non c'entrano nulla le quest che si fanno tipo oltre al gioco normale, quindi io tipo adesso non sto facendo nulla, ciao! Ho le mani qui! Sta facendo tutto Lino con il suo Zigzagoon per prendere il suo stupidissimo Ralts che poi non incontreremo perché i Pokémon che hanno tutti quanti gli allenatori sono totalmente random, quindi fondamentalmente catturare questo Ralts per poi non averlo un'altra volta è strano, sì, decisamente, va bene! Ok, quindi per favore, cattura, bravo, borsa, piano eh, pa, con quel dito, pa, ok, vai, a te! Ma di sicuro, sicuro non lo catturerà dai, no, no, cosa dici? Ok, bravo Lino! Ok, ragazzi abbiamo fatto fare la cattura a Lino, spastico per com'è, e quindi ritorneremo appunto a Petalipoli per, anzi in palestra! Allora è andato tutto bene? Sì, grazie, ce l'abbiamo fatta! Signor Norman! Non riesco a parlare, oddio! Ok, e quindi, il Multinav, lino, ah ok, mi hanno aggiornato il Multinav, il Pokenav, quel coso là, usando Navisvago potrei coccolare, ah ok, il, il Pokiio e te, tra virgolette, e basta! Comunque piano piano mi metteranno tutte quante le modalità lì sotto, ma poco a, poca importanza! Quel ragazzino sembra molto promettente, ma, torniamo a noi! Dark, se vuoi diventare un bravo allenatore, ecco il mio consiglio! Per prima cosa dirigiti a Ferrogipoli, la prossima città! Li devi, le, li devi sfidare la capopalestra a Petra! Vabbè, comunque, cosa che sarà fatta ovviamente nei prossimi episodi! Quindi, perché sì, è veramente figo scoprire che Pokémon avranno i capi palestra, mio Dio! E nulla, ragazzi, adesso devo fare una cosa precisissima, e poi magari ci salutiamo per oggi perché abbiamo già fatto un paio di cose! Quindi, Pokémarket! Lo so, sto già spendendo roba, ah, tipo, devo comprare le Pokéball, perché questo è il fulcro della vita, proprio! Comprare le Pokéball, perché se, appunto, nelle Nuzlocke non compri una quantità spropositata di Pokéball e di cose varie che riguardano e che ti servono per catturare, appunto, dei nuovi Pokémon, sei finito! Decisamente! Allora, siamo al percorso 104, qui dovremmo trovare un nuovo Pokémon, si spera! Si spera veramente! Vabbè, proviamoci, dai! Non è mai detta l'ultima parola, e... Chi salta fuori? Oddio, no! Glaceon! Ragazzi, questo è un altro membro del mio team, io mi sto emozionando tantissimo in questi episodi, cioè, no, no, no! Non è possibile! Cioè, ho trovato un Glaceon! Cioè, tra l'altro è stato un Glaceon, l'ho trovato anche sul Pokémon Erd Gold, quindi sono contento! Ok, calma! Boni, boni tutti! Proviamo a fare... Pisto l'acqua! Dovrebbe essere sufficiente! Se non lo è, mi uccido! Ok! Ok! Mi è mancato per un attimo il respiro! E... bene! Dovrei farcela! Dovrei farcela! Non vorrei gufare tantissimo! Proviamoci! Con calma! Uno! Due! Tre! E quattro! Sì! Abbiamo catturato anche Glaceon! Madonna! Madonna quanto sono forte, cazzo! Già da adesso! Madonna! Mi sento Dio! Mi sento Dio! Mi sento Dio! Ok! Abbiamo catturato Glaceon! No vabbè! Incredibile ragazzi! Incredibile! Non ho parole! L'episodio di oggi è stata una cosa assurda! Ok! Diamo gli sto soprannome! E... Boh! Come lo chiamiamo? Allora il nickname che ho deciso da dare appunto a Glaceon è Aku! Vediamo un pochino chi di voi riesce a capire il riferimento! Ok! Aku! Così! Perfetto! Quindi ovviamente se avete capito voi questo nickname scrivetelo qui sotto con un commento! Solitamente quando do dei nickname molti di voi lo capiscono! Quindi scrivetemi un commento qui sotto per capire di che cosa sto parlando! E a cosa è riferito questo nickname giustamente! Allora è una cosa impressionante ragazzi! Veramente! Sono veramente ancora in stato di shock! No! Abbiamo catturato un Dianzi e un Glaceon! Con botta, spada mistica e acido bomba! Ma dove siamo? Mantelneve aumenta l'illusione quando grandina! Perfetto! Cioè perfetto! Ok! E... Di natura timida? Ragazzi veramente fatemi sapere tantissimo con dei commenti qui sotto cosa ne pensate voi di questi Pokémon! Perché wow! Cioè wow! Veramente wow! E nulla! Abbiamo qui il signor Marino con Pico! E quant'altro! Battiamo questo Bull e poi ci salutiamo per oggi! Perché insomma abbiamo quasi finito l'episodio di oggi! Nella prossima parte giustamente cercheremo di arrivare appunto a Ferrogipoli! Di battere anche Petra! Di fare le classiche cose che si fanno! E poi niente! Ci saranno anche dei nuovi percorsi! Quindi magari ci saranno dei Pokémon nuovi! Chi lo sanno? Veramente! Ok! Luce Siluro! Ne sto abusando tantissimo di questa mossa ma mi serve tipo il tipo elettro veramente! Perché se no trovo veramente tante difficoltà! Ok! Giù Kingler! Bene! L'ultimo Pokémon che avrà sarà? Intanto Kurosawa sale a livello 14! Mancano due livelli per Marshtomp! Neanche il tempo! Che figata! E Primplab! Ok! Tipo mette Primplab! Io non posso switchare purtroppo! Però in off camera vedremo di combinare qualcosina con appunto i livelli! Dai! Ok! Facciamo schiaccia tuffo! Tuffo! Schiaccia tuffo! Schiaccia tuffo! Mi devo fare un lavaggio del cervello con sta mossa! Bene! Bene! Ragazzi abbiamo vinto anche quest'altra sfida! E direi che per questa parte ci possiamo veramente salutare! Sì! Però guardate dove ci salutiamo! Ci salutiamo qua! In un punto che... Avete sentito? Guardate! Mi compare anche nello schermo inferiore! Che figo! Che figo! Che figo! Ok! Vabbè! Basta! Io ho Glesion! Adesso vaffanculo! Ok! Non c'è più altro da prendere! Quindi ragazzuoli! Io vi saluto qui al percorso 104! Se non sbaglio! Nella prossima parte entreremo per il Bosco Petalo! E usciremo ovviamente per Ferrugipoli! Cercheremo di andare nel percorso dietro! Smettila di fare versi strani Glesion! Cercheremo! Tenteremo di battere appunto Petra! Non so se ci arriveremo col tempo! Ma spero tanto di sì! Voi restate sempre sintonizzati Glesion! Smettila! Lasciate un bel mi piace per questo episodio se vi è piaciuto! E commentate qui sotto rispondendo alla domanda del giorno con l'hashtag DDG! E soprattutto scrivendomi tutta la caterba di cose che avete visto in questo episodio! E che personalmente io vi ho chiesto di scrivere! Quindi grazie mille per la visione! Ci vediamo con un prossimo episodio di Pokémon Rubinomega Extreme! Randomizer Nuzlocke! Ciao a tutti!